E' dura, eh? Cosa? Non fare sesso da tanto tempo. E' dura. Ma in che senso? Guarda che io... Come l'ha capito? La vita è strana. Un giorno devi consegnare una lettera e il giorno dopo sei volontario di un anno profito solo perché ti sei innamorato di uno specializzante. C'è Giulia! Ciao Pony, cerchi qualcuno? Reprimere a lungo le nostre pulsioni ci può condurre a nevrosi, psicosi, amici immaginari. Salve! Domanda, vedi un nuovo vestito da Elvis? No. A posto così, grazie. Io sono a proiezione della tua libido repressa. La dottoressa dai capelli viola! 10 euro e ti reggo il gioco. Dimmi tutto di lei subito, ora ti prego. Ti serve un piano per salire sul palco di special stage e dedicare la tua canzone a Giulia. Oh, giovane. No, lui. Chi è questo figo pazzesso? Lui è Piermarco Maccarini, un mio collega. Oltre a volontario hai anche un lavoro, vero? Sì, sono laureato in lettere. Lettere, filosofia, lauree nobili. Completamente inutili in questa società così me ne freghiste. Che amarezza. Vabbè, vado al bar d'orto, cioè al bar sotto. Poi queste sede avventate tutte nei miei ospedali, ma quante ce ne sono? No, io non ti pago per dimenticare le cose, io ti pago per lavorare. Sai cosa ti dico? Sei licenziato. Sì, ma io non son pagato, io sono un volontario qui. Ettore, sto scherzando. Ovviamente non è vero. Scusa, dimmi Giovanotto, vorresti andare allo special stage, ho capito dai tuoi occhi. Vieni, ti ci porto io. Buona cucina.